Oggi mi trovo a Bologna, nel quartiere Navile, vicino al parco delle Caserme Rosse. Zona tranquilla, di fronte alle scuole pubbliche Zappa, comoda la tangenziale e a pochi minuti dalla stazione centrale. La tipologia di appartamento che ti presento è ideale anche da investimento. Si tratta di un ampio monolocale con la zona notte separata, completamente arredato e dotato di post auto nel cortile interno. Per scoprire questo immobile, contattaci! Il prezzo lo trovi in descrizione. Grazie a tutti! Grazie a tutti!